Buongiorno a tutti, oggi è la giornata dell'analogista e per questo invio questo breve messaggio dal Brasile. Io mi chiamo Roberto Baglini, sono di Pisa, sono un analogista, uno dei numerosi allievi del maestro Stefano Benemeglio. Oggi vivo in Brasile, qui siamo a Rio de Janeiro in una località al di fuori della grande città, in un posto molto tranquillo e con una natura rigogliosa, tipica di queste parti. E sono nella mia casa e approfitto di questa occasione per inviare un messaggio di saluto, un messaggio di caloroso affetto. Qua in Brasile si chiama Saudagi, per tutti voi e per l'Italia che sta attraversando, ha attraversato un periodo tanto difficile, di sfida sanitaria, diciamo, con tutte le implicazioni che ne sono seguite. La mia nostalgia in questo momento è abbastanza forte per questo, perché purtroppo, dato l'evoluzione della mia vita e le numerose scorrerie attraverso vari paesi del mondo che l'hanno caratterizzata, non sono stato in grado questa volta di rimanere in patria, a dare una mano nel momento del bisogno. Io sono un medico e per questo avrei potuto stare con voi di più, ma è stato impossibile. Bene, comunque, al di fuori della nostalgia, oggi è un'importante giornata per noi tutti, la giornata dell'analogista, è una giornata che perlomeno mi riporta indietro di moltissimi anni. Quando per la prima volta vidi il professor Stefano Benemeglio in televisione, negli anni 70, facendo una dimostrazione grandiosa di ipnosi dinamica. me la ricorderò per sempre e fu quello il momento, lo rammento ora dopo tanti anni, in occasione di questa giornata, perché fu quello il momento che mi convinse dell'assoluta necessità per me, prima o poi, e fu poi, non fu prima, di entrare in contatto con quella meravigliosa possibilità culturale che il professor Benemeglio stava esprimendo già in quei tempi. Dopo molti anni, io ero un medico, avevo già lavorato in diverse parti d'Italia, in quel momento stavo lavorando a Palermo, ebbi l'occasione di frequentare finalmente la facoltà di discipline analogiche, e da quel momento la mia vita è cambiata. Per questo la mia testimonianza oggi credo possa avere un valore in qualche modo, perché la mia vita è cambiata da quel momento attraverso la novità esistenziale che è stata apportata, quindi all'interno della mia vita, dalla conoscenza, che il professor Benemeglio sparge a mani aperte per chiunque voglia avere accesso. Oggi io in Brasile porto avanti la diffusione delle parole del professor Benemeglio, sto insegnando discipline analogiche, ipnosi analogiche, tutto che riguarda il nostro affascinante campo di conoscenza a Rio de Janeiro, a San Paolo, e presto in altre città americane. Americano è un lapsus freudiano, scusate, altre città brasiliane, e ho un contatto negli Stati Uniti per cominciare un'esperienza, perlomeno preliminare, anche a Orlando. Bene, questa è la mia storia di analogista, riassunta brevemente. Naturalmente manca tutta la parte clinica, tutta la parte di esperienza pratica, tutta la parte di fascino culturale che ha ammantato la mia vita, ma come si fa in un breve filmato. Io vi saluto tutti, vi abbraccio, abbraccio il professor Benemeglio, molto, con un affetto enorme e infinito. Abbraccio Samuela, abbraccio tutta la grande, grande famiglia degli analogisti che oggi si ritrova.